Ottavo posto, quattro punti di ritardo dalla griglia playoff, ma anche una gara da recuperare. Mercoledì prossimo a Matelica, diversi infortuni, Remo e Stefano Amadio, Mazzei, dubbio Marianeschi per la partita di sabato a Sant'Arcangelo, squalificato della Quercia. Momento dunque tutt'altro che propizio per il Pineto, che non vince dal 16 dicembre sul campo della Samorese, in casa addirittura dal 2 dicembre con Castelfidardo. Nel 2019 appena due pareggi in quattro sfide. Il presidente Silvio Brocco, il tecnico Daniele Amaulo e l'esperto difensore Marco Pomante. Bisogna fare di necessità virtù in questo momento. Tante cose, diciamo così, tra virgolette, negative, infortunati in primis. Nel calcio tutto questo è normale, quindi è sempre da voltare pagina, quindi ricominciare, il saper ricominciare, penso che sia la dote più grande di una società, di una squadra, di un mister, di un allenatore, che chiude gli occhi a quello che è stato e ricomincia con entusiasmo. Un nuovo arrivo, Pietrangeli, terzino destro, è un giovane, difensore centrale più che un terzino, mi pare di aver capito. Sì, è da poco che è arrivato, è un giocatore strutturato fisicamente, adesso con le caratteristiche è nato come centrale, però si può adattare anche il terzino, vediamo adesso se può darci una mano in quella zona di campo. Almeno abbiamo un'alternativa un po' a Riccardo della Quercia, visto che poi domenica sabato è pure squalificato, quindi avevamo bisogno sicuramente di un altro under in quella zona di campo. L'alto sta per arrivare, Antonicelli dal Bisceglie, centrocampista classe 2000. Sì, anche lì abbiamo bisogno di avere un'alternativa a Valerio Camplone, che sta tirando la carretta dall'inizio del campionato, quindi abbiamo bisogno di un altro under affinché abbiamo un'alternativa anche in quella zona di campo. Presidente, è comunque una squadra in linea con gli obiettivi che erano stati istitati alla vigilia del campionato, anche perché si ha quattro punti ai playoff ma con una gara da recuperare, tutto è ancora possibile. Sì, ma io credo nella classifica finale, perché poi la classifica è frutto di un tribunale infallibile nello sport e nel calcio. Bella questa, un tribunale infallibile. Infallibile, infallibile, perché i conti si fanno alla fine, non adesso. Giudice inappellabile il campo. Inappellabile il campo, ma alla fine tutto ciò che casomai non abbiamo avuto sicuramente ci tornerà, ma io questo non lo dico io, ma lo dico no, dalle squadre dal calcio internazionale. Assolutamente. Presidente, Gianmarino nei giorni scorsi è arrabbiatissimo con i direttori di gara, anche a ragione, devo dire, perché ci sono state situazioni un po' controverse, piuttosto controverse. Qual è il suo punto di vista? No, per me sì, lui può aver ragione nel valutare quello e quell'altro, ma questo fa parte del gioco del calcio. Però c'è stato qualche abbaglio? No, io non mortifico nessuno, per me fa parte proprio del calcio così, come tutti gli altri sport. Non si è 11 da una parte all'altra, ma ci sono anche i tre direttori di gara, sono degli uomini, quindi se un attaccante sbaglia un rigore o un terzino liscia una palla e l'avversario fa gol, ci può essere anche un arbitro che casomai vede un fallo, lo vede dentro invece che fuori, ma da parte dell'essere uomini. Quindi il Presidente è molto tollerante, l'allenatore? Magari a caldo un po' di meno, adesso sono passati un po' di settimane, un po' di giorni. Sicuramente a caldo c'è molta amarezza, ma magari quando subisci una sconfitta è qualche episodio negativo, però anche io penso che sono episodi che fanno parte del calcio e non dobbiamo trovare magari l'alibi giustificazione su questa situazione, noi dobbiamo trovare la forza in noi stessi di ripartire anche da queste situazioni negative e anche da questo trovare lo spunto per dare una risposta importante. Parliamo dell'Avezzano, ma l'ex nostro Fanti, bravissimo ragazzo, in porta ha fatto lo stravedere, quindi alla fine l'ho abbracciato pure. Quindi è ingiustificato lo sfogo di Roberto Giannini. 5-3 avremmo avuto gli stessi complimenti degli avversari, tranquilli, poi è finita 3-3, perché è finita 3-3, basta. Quindi sta dicendo candidamente il presidente Brocco che poteva evitare Roberto Giannini. No, 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 lui deve sfogare le sue passionalità e quello che lui vede, giustamente, ma questo a caldo lo facciamo tutti. Poi dopo, riflettendo, come ho detto in introduzione del discorso, giriamo pagina e guardiamo sempre al futuro. Quello che è stato il passato, come diceva il nostro mister, ci serve di lezioni, ci serve di esperienza, errori che vengono commessi con la speranza che non si ripetano. Ma il calcio è una platea, è un teatro che deve insegnare a ciascun di noi ogni cosa. A me, prima di tutto, come presidente e quindi devo essere il più calmo, il più equilibrato, quello che deve... Questa è una bellissima lezione di complimenti. Poi lei è anche un uomo di spettacolo perché si diletta, quindi sa che cosa significa. Prova a immaginare se io stessi, no, con la rabbia, quando con il mio gruppo interpreterò un ruolo importante come quello di essere colui che batte il tempo e quindi... Batterista. Batterista, ma... Vogliamo ricordare il gruppo, come si chiama? Le Ombre. Le Ombre. Quando si esibirà il prossimo appuntamento? Fra due settimane, sì. Perfetto. Ci saremo. Abbiamo una serata bellissima con bambini diversamente, chiamiamoli abili, e noi abbiamo un piacere infinito di suonare per loro, di fare una serata di beneficenza. D'altra parte questo è il nostro obiettivo. Quindi fine assolutamente nobile. Di regalare un sorriso, un'emozione. E questo deve essere anche nel calcio. Sono d'accordo con lei, Presidente. Il Sant'Arcangelo non vince in campionato dalla partita di andata, qui a Pineto, 2-1. Sì, ma al di là di questo la partita presenta le sue difficoltà, perché incontriamo una squadra che si trova all'acqua alla gola e deve fare risultato a tutti i costi. Noi altrettanto dobbiamo fare risultato a tutti i costi, quindi sarà una sfida da giocare e interpretare bene, con lo spirito giusto, con la carica giusta, con la rabbia giusta. E se noi vogliamo ripartire, dobbiamo ripartire proprio da questa partita. Cambierà giocoforza, sistema di gioco? Probabilmente sì, perché le problematiche di infortuni ci porteranno sicuramente a cambiare qualcosina. Adesso vediamo un po' l'equilibrio e l'assetto tattico migliore per questa partita. La vittoria tarda ad arrivare, è un po' quello che è successo all'inizio del giro di andata, si stanno ripetendo più o meno le stesse cose. Com'è il rendimento? Sì, sicuramente è normale che non è un momento positivo, come hai detto tu dal punto di vista infortunato, dal punto di vista dei risultati e anche delle prestazioni. Non ci nascondiamo che ultimamente le prestazioni non sono state positive. Sappiamo che già l'abbiamo passato questo momento, fortunatamente l'abbiamo passato nei migliori dei modi. Adesso dobbiamo essere bravi a riprenderci, ma più che altro a cambiare mentalmente, perché stiamo andando troppo dietro ai fatti muscolari, ai fatti sfogli degli albitri e tutto. Noi dobbiamo pensare a fare la nostra prestazione, dobbiamo pensare che gli infortuni fanno parte del calcio, gli errori albitari fanno parte del calcio. Noi sappiamo che siamo un'ottima squadra e l'abbiamo dimostrato e quindi già da sabato a San D'Arcangio dobbiamo subito riprendere a camminare, perché le altre non aspettano. Zero alibi, diciamo così. No, questo è l'errore più grosso, secondo me è l'errore più grosso che possiamo fare. Ci dobbiamo fare normale, che non stiamo facendo bene. Siamo stati... la sfortuna ci sta, perché è normale domenica. Abbiamo perso Stefano, che ci nascondiamo, è un giocatore importantissimo per noi. È entrato Marianeschi e è uscito dopo dieci minuti. La sfortuna ci sta, però in questi momenti se vai cercando gli alibi fa l'errore più grosso. Tra l'altro adesso un tour de force per il Pinedo, se consideriamo anche il recupero di Materica di mercoledì prossimo, sono cinque partite in quindici giorni. Sì. Poi ci sarà anche il turno infrasettimanale. Sì, sì, sì. Sono due o tre settimane importanti, perché dopo queste cinque partite si decide tutto. Diciamo, si può dire quello che possiamo fare. Forse per noi è meglio, perché è un conto in questi momenti. Meglio giocare, giocare ogni tre giorni, che allenarti una settimana dopo una partita negativa. Quindi dobbiamo essere bravi a fare risultati a tutti i corsi già da sabato. Ma noi dobbiamo pensare partita e partita. Adesso l'importante è vincere sabato a San D'Arcangio e poi mercoledì ci pensiamo per il Materica. A proposito, ho detto qualche settimana fa, capitano non giocatore, però poi sei stato utilizzato a Monte San Giusto, quindi mi sono sbagliato. Ma non ti sbagli mai. Ma tu oramai hai un'esperienza impressionante. No, no, devo fare pubblicamente ammenda. Sei ancora un giocatore. Quindi speriamo che domenica e sabato gioco allora. Certo, io te lo faccio. Ti faccio tornare ogni settimana allora. Va bene. Va bene.